Buongiorno, oggi vi presentiamo questo violoncello, che è un violoncello antico, è un violoncello della metà dell'Ottocento tedesco, che è stato montato barocco. L'opera è stata fatta dal maestro Lutaio Delfi Nerlo in Milano, ed è consistita nel rifare la catena, che a questo punto è più stretta e più bassa rispetto alle catene moderne, nel rifare la tastiera, che è in abete rivestita di ebano, lo stesso la cordiera, all'anima in abete rivestita, il ponte è un modello settecentesco ridisegnato da Pierre Bohr, le corde sono artigianali, il budello, naturalmente il budello rivestito, realizzate dal maestro Nicola Moneta, e abbiamo chiesto a Marco Frezzato, di passaggio a Magazine Musical, di suonarlo per noi. a Marco Frezzato, di passaggio a Magazine Musical, di suonarlo per noi. a Marco Frezzato, di passaggio a Magazine Musical, di suonarlo per noi. a Marco Frezzato, di passaggio a Magazine Musical, di suonarlo per noi. Grazie a tutti.